Asia Napoli ha acquistato grazie a circa 3 milioni di fondi della città metropolitana un nuovo parco veicolare di 22 nuove spazzatrici tra cui 12 elettriche da utilizzare in aggiunta a quelle già in servizio su tutto il territorio cittadino. Le spazzatrici elettriche in particolare hanno un basso impatto ambientale sia per quanto riguarda il ridotto utilizzo di acqua che per l'abbattimento delle emissioni in termini di rumorosità e emissioni di polvere. Gli autisti sono stati selezionati con bando interno e sono in corso le attività di formazione. Le macchine saranno messe in servizio a pieno regime a partire da settembre e sono in corso verifiche sul territorio per la valutazione dei migliori percorsi su cui utilizzare il nuovo parco veicolare. Alla presentazione erano presenti il sindaco Luigi De Magistris, l'assessore all'ambiente Raffaele Del Giudice, il consigliere Vernetti e il presidente di Asia Maria De Marco.